ciao popolo è tanto che non ci sentivamo e lo so agosto ce la siamo presa come tutti quanti tanto mi scuso subito per la tenuta da combattimento ma quando si combatte con le pietre io gli schizzi mi sbrodolo come i bambini comunque cerchiamo di farla un po più corta stavolta lo dico sempre ma non ci credo più manco io facciamo la più corta perché oggi vi voglio parlare di nuove pietre che mi stanno arrivando dico stanno arrivando perché ancora non ce le ho tutte me ne mancano un paio che dovrebbero essere in viaggio arriveranno a giorni e parliamo di pietre indonesiane trovate così per caso gironzolando visto che mi piace anche fare collezione sono sicuramente pietre da coltello intanto ve le faccio vedere sono qui poi ne parliamo mano mano che le tiro fuori dall'acqua è un'oretta che stanno a bagno diciamo sono pietre che io già ho da diverse settimane non ve l'ho fatta ancora vedere perché principalmente ve l'ho detto sono pietre da coltello non mi è arrivata la pietra fondamentale da coltello la grana più bassa una grana intorno ai mille per cui la filatura del coltello mancando le grane basse non la potevo fare nel frattempo ho provato a vedere come funzionavano le ho provate con tutti i sistemi possibili e immaginabili l'ho provate ad acqua ad acqua e sapone ad acqua e glicerina ad olio e la prima sensazione è strana molto strana non posso dire che sono pietre che non funzionano perché ho fatto anche le mie prove i miei test al microscopio poi se volete ve le faccio vedere ho delle schermate che vi posso dire per esempio una comparazione ad acqua volete vedere magari eccola aspettate un attimo aspettate questa per esempio è una comparazione ad acqua usando le due pietre indonesiane una stimata sugli 8000 e una stimata sui 12.000 quindi vedete che sono pietre un po strane perché noi sul 12.000 abbiamo un'altra un'altra idea della pietra ultra finissima però riportando il fatto che sono da coltello ci potrebbe pure stare ma sinceramente io potevo stare aspettare un'altra settimana che arrivassero me ne doveva arrivare due mi deve arrivare la più grossonana e la più fine quindi probabilmente farò anche un secondo video scusate io me la spippacchio allora adesso se mi date solamente un secondo di tempo rimetto via le pietre ve le sposto dal dal tavolino che ho veramente poco spazio e allora che cosa ho deciso cosa ho deciso di fare ho deciso chiaramente di provarle sul coltello nell'unico modo che ancora non ho provato cioè la l'utilizzo a fanghiglia a sospensione non avendo le botte le tomo chiamate come volete creerò le sospensioni con una piastra diamantata allora vi faccio vedere qui sotto al microscopio c'è già un rasoio in più che decenti condizioni questo è un rasoio di un ex barbiere giapponese però la realizzazione adesso ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere meglio ecco la realizzazione è tedesca non so se si riuscirà a leggere made in germany acciaio non c'è grossa indicazione sull'acciaio quindi c'è scritto solo best steel il classico solingen quindi non ho voluto né infierire con un acciaio particolarmente duro né fare le prove sul gold dollar sacrificale che sappiamo che un acciaio praticamente inconsistente allora intanto visto che il rasoio voglio dire eppure buonarello non è un rasoio di quelli sacrificali vado a mettere il solito nastro a proteggere la costa in questo caso lo dico subito visto che le pietre fino adesso in tutti i tentativi che ho fatto di affilatura si sono dimostrate abbastanza lente il fatto di procedere con un nastro mi consente di asportare meno materiale e quindi cercare di facilitare un po il lavoro della pietra chiaramente così il bevel viene leggermente più stretto viene leggermente più corto e la superficie a contatto con la pietra diminuisce ok quindi il rasoio c'è è pronto perché cominciamo con la prima pietra allora dico subito purtroppo io ho scritto 3000 ma ecco questa è la prima cosa che non mi è piaciuta delle pietre indonesiane aspettate mi sposto un pochettino almeno si vede meglio la pietra il fatto che il grit è stimato molto molto alla casareccia maniera niente studi niente laboratori niente di niente che di loro stimano il grit così passano la manina sopra il polpastrello sopra questa è una mille a questa è una 3000 a questa è una 10.000 vanno a sensibilità di polpastrello questo chiaramente per noi è inconcebibile che noi sul soprattutto sulla filatura del rasoio ci facciamo centomila problemi per mezzo grit di differenza ah no ma io bisello con la mille no io prendo quella perché mille due cioè come no no forse è meglio l'ottocento invece loro tanto è vero che il grit lo stimano solo per la vendita parlando con la persona che ho conosciuto che mi ha procurato queste pietre per loro non esiste il grit cioè pietra grossolana pietra media e pietra fine poi se la pietra fine è 6.000 8.000 10.000 poi gliene poi ho scoperto perché perché praticamente loro lavorano su coltelli fondamentalmente non li ho mai visti a filare un rasoio ma lavorano su coltelli di ferro è un acciaio che per noi è inconcepibile io intanto comincio a preparare la sospensione per cui capite bene che tanti problemi non se ne fanno però però per noi visto che ci piace affilare il coltello sì ma ci piace affilare il rasoio insomma e le pietre hanno un altro chiamiamolo problemino che l'indonesia costano pochissimo a noi una volta arrivata in europa tra le spese di trasporto che sono carissime in questo momento più le tasse più la dogana alla fine perdono molto della loro appetibilità economica quindi se le pietre vanno onestamente bene beh forse il caso di faccio un pensierino ma se le pietre alla fine si dimostrano di media qualità non voglio inferire diciamo di media qualità sinceramente abbiamo tante alternative già in europa no quindi senza andare quindi io l'ho prese più che altro per curiosità e comunque le derrò come scusate come valore collezionistico insomma in questo momento in europa siamo in pochissimi ad averli in italia siamo solamente in due e con l'amico passilio stiamo facendo da settimane tutte le nostre prove per cercare di capirle al meglio possibile poi ci sentiamo ci scambiamo i pareri ma siamo concordi su diversi punti allora parliamo di questa ipotetica 3000 intanto come potete vedere una 3000 usa anzi anzi scusate devo fare una cosa il rasoio io lo sfilo se no adesso il rasoio non taglia più stavo dicendo intanto come vedete chi all'occhio fino aveva già visto una 3000 usata oltretutto a sospensione c'era da aspettarsi una bella velocità invece se vedete è molto molto difficile far caricare di rimatura la sospensione quindi diciamo che l'abrasività il grado di abrasività non è non è forte anzi sono pietre che si sono dimostrate lente in qualsiasi condizione di utilizzo ci sono dimostrate lente utilizzate a sola acqua poi guardando il loro video ho visto che molti video indonesiani affilavano il coltello però con le pietre in acqua e sapone ho fatto anche la prova in acqua e sapone poi mi è venuto in mente ma se affili con acqua e sapone vediamo pure acqua e glicerina che cosa mi porta eppure con acqua e glicerina la velocità di abrasione è bassa dopo di che ho provato anche l'olio devo dire che le grane più pini quelle che vedremo dopo hanno avuto un beneficio ad olio e vi spiego anche perché io non so di che materiale sono fatte però vi posso dire una cosa che questa 3000 ipotetica 3000 si discossa molto come composizione delle altre due che avete visto che dovrebbero essere indicativamente con 8.000 una 12.000 perché quelle mi sembrano tanto delle nuova coliti e nuova coliti non sono gli assomigliano tanto le altre due le pietre fini sono molto dense densissime si può passare dall'olio all'acqua basta una sciacquata con acqua e sapone non assorbono e mi hanno dato proprio più che le arkansas mi hanno dato l'idea delle nuova coliti canadesi e wildrose per capirci al tatto e intendo come consistenza come durezza e allora dico vabbè se somigliano alla nuova colite l'olio ci sta ci sta tutto devo dire che la velocità di abrasione è rimasta bassa anche lì però facendo delle fotografie al microscopio devo dire che come livello di finitura sono venute fuori abbastanza fini il vero problema è questo lo vedete da quanto tempo sto spazzolando su sta pietra sto spazzolando su sta pietra oltretutto lo sto usando a fanghia è difficilissimo tirare fuori il trucciolo quindi non si riesce a caricare di rimatura la sospensione e noi ormai lo sappiamo ecco guardate adesso forse vi riesco a fare vedere un minimo di differenza di colorazione non so se riuscite a vederla ho messo un po la webcam un po più lontana del solito per inquadrare sono pietre grandi eh anzi già che ci so faccio vedere un attimo le misure perché ecco il vero peccato è che sono pietre economiche quindi avessero fatto una buona riuscita guardate sono 20 centimetri per 5 ho messo proprio lontana web per 3 quindi 20 per 5 per 3 pietre dense pietre di misure importanti questa che al tatto al all'utilizzo semiglia tantissimo a una nostra ardesia è anche la più leggera delle altre le altre sono molto più compatte di conseguenza molto più pesanti pietre di queste misure poi adesso vi ripeto ve le faccio vedere quando sarà il momento stanno sicuramente oltre il chilo molto molto dense questa vi ripeto se non fosse per il colore sembra tanto una nostra ardesia però la nostra ardesia sonnacchiosa io chiacchiero ma sto cercando di guadagnare tempo cioè di stare un po più di tempo sulla pietra perché vedete proprio non la pietra non ha brade non ha brade la cosa no triste la cosa purtroppo che fa capire che il tipo di abrasivo la pietra ne porta poco e morbido e che se prende un coltellaccio di quelli da bancarella quelli dal mercatino del sabato di quelli che costano 2 euro e adesso comincia a strofinare con quel tipo di coltello allora un po di nero si vede un po si carica la lima di di rimatura ma già basta un acciaio solinghen qualsiasi ripeto avrei potuto fare il bastardo andare a prendere un acciaio uno sheffield del prato in francia durissimo prendere un rasoio di un maker in k720 temprato per bene ma neanche tanto vediamo al microscopio che sta succedendo ma neanche a pensarci aspettate che adesso cerco anche la messa a fuoco allora quindi rispetto a prima giustamente il filo sta tornando indietro e siamo passati da un rasoio con cui mi c'ero già sbarbato per cui un rasoio pronto per la rasatura un rasoio finito un bevel finito ha una pietra più grossolana se vedete quindi giustamente il bevel sfrangiato si vede un accenno di lucidatura perché mano mano che parlavo avete visto quanto ho dovuto diluire la sospensione benché vi ripeto le pietre erano a bagno da oltre un'ora quindi questa in particolare che vi ripeto è diversa dalle altre questa in particolare una pietra molto assedata un'ora in quella vaschetta a bagno eppure ancora l'acqua si consuma molto molto velocemente si viene assorbita molto molto velocemente al tatto è chiaramente il filo è molto molto grossolano fare una piccola prova per vedere se comincia a tagliare se diciamo che qualche cosa taglia voi sapete qual è la mia fissazione no per me la bisellatura è finita quando si cominciano a tagliare i peli non a contatto con la pelle diciamo che quasi ci siamo diciamo che quasi ci siamo per cui io adesso farei qualche altra passata a pietra pulita anche per farvi vedere una cosa vedete che c'è un accenno di auto di auto slurry è una pietra felpata è una pietra su cui la lama come ve lo dico scorre frenata ripeto io mi trovo molto in difficoltà nel dare un giudizio ero sono stato molto indeciso sono due settimane che ho le pietre e sono stato molto indeciso se fare il video o non farlo perché di solito uno sul video fa vedere cose che possono interessare nel senso cose appetibili cose guardate ragazzi ho trovato questa pietra va tutto sommato bene quindi se se vi va è una nuova pietra una soluzione alternativa per l'affilatura dei nostri rasoio dei nostri coltelli in questo caso io mi trovo in un'estrema difficoltà perché non posso dire di aver comprato dei fermaporta però ecco lo state vedendo voi già la registrazione va avanti da vediamo da quanto da 20 minuti troviamoci pure cinque minuti di chiacchiere all'inizio ma è un quarto d'ora che io sto spazzolando su questa pietra ripeto per loro pietra grossolana per loro 3000 anzi 3000 hanno detto a me quando gli ho chiesto sì vabbè ma che gritte me stai mandando perché ripeto loro il problema del grit non se lo fanno più di tanto è un discorso tutto nostro e ormai diciamo le nostre affilature sono un po più tecnologiche se già basterebbe vedere se andate a guardare qualche video su youtube come lappano le pietre come spianano le pietre cioè noi ci metteremmo le mani nei capelli noi quando arrivano le pietre le disegniamo con la matita andiamo a prendere un piano di riscontro cercando che sia il più piatto possibile andiamo a prendere le lastre di granito andiamo a prendere il vetro andiamo a prendere chi chi ha da spendere va a prendere proprio le piastre da rettifica garantite allo 0,01 micron millimetri scusate di tolleranza loro invece prendono pezzetto di carta vetrata o una boot e strofinano poi guardano che non aspetta forse e là c'è una gobetta e strofinano mano libera quindi immaginate quando sono arrivate queste pietre che che mi sono dovuto far per spianarle ok diamo l'ultima controllata con il microscopio sbagliato tasto eccola qua vedete che tutto sommato non è un brutto risultato ma lasciate perdere il filo sporco è pieno di bavette avrete avuto un tagliato assurdo scusate una pulita proprio qua sulla tovaglietta che mi copre la scrivania riproviamo è una pietra di difficile interpretazione perché se guardiamo il bevel per essere una 3000 comunque un grit grossolano i marchi da filatura non sono brutti però guardate che brutta cosa è successa col frio sul filo io ci sto su una tremina ad avere un filo sfrangiato ma guardate che sorta no aspetta dito io dovete così più o meno al centro c'è non lo voglio considerare proprio un chip quello però poi vedete dove c'è dove non c'è quindi la pietra non è molto omogenea la pietra ha degli alti e bassi in qualche punto ha trattato il filo per bene in qualche punto si è dimostrata fin troppo aggressiva quello che sto vedendo non è una bella cosa e comunque adesso prima di arrivare ai pezzi più fini scusate cambio di nuovo inquadratura quindi metto via la grossolana diciamo prima di arrivare alle due finali c'è questa pietrina piccolina questa è la scritta del dell'indonesiano spacciata adesso devo dire spacciata per 6.000 quindi come prima ho un po' di sospensione questa è anche questa è più tipo Ardesia che anzi se non sapessi che viene dall'indonesia dico questa è la classica Ardesia la classica MS&T Muller ma comunque io questo è stato un piccolo omaggio che ho trovato dentro il pacco io in realtà avevo comprato le pietre di quell'altra misura quindi anche in questo caso grit stimato a polpastrello niente di c'è niente di sicuro nella vita e se andate a parlare con indonesiano pure quelle due sicurezze vacillano molto allora sento qualche cosa di bruttissimo colludito non so se il microfono riesce a io lo metto proprio vicino sentite? eh forse no forse no comunque sta facendo più rumore sembra addirittura più grossolana questa dell'altra arancione che ho appena usato l'altra arancione è ha mangiato molto molto lentamente vi ripeto sono voluti più di 20 minuti per ridare un po' di taglientezza al filo che poi taglientezza con quei buchi sul sul filo è ovvio che le creste aggrappavano lì non erano micro creste erano proprio mini chip quindi detta in termine tecnico grazie alla che il che il che il pelo veniva aggrappato anche al volo e praticamente c'erano i denti della motosega su quel filo infatti io sto talmente preoccupato che prima di continuare voglio dare subito un una controllata al microscopio perché non vorrei fare danni che è la prima volta che mi capita una dichiarata 6.000 che fa tutto sto casino allora che i marchi sono disordinati ci sta perché avete visto sono andato avanti a cerchietti allora guardate è una novità anche per me sto facendo questa prova usando queste pietre a fanghiglia per la prima volta non l'ho provata prima dico se va bene va bene in diretta se va male va male in diretta perché ragazzi io sono disponibile con tutti non vi nascondo che questa persona se è proprio una pregata in ginocchio mi puoi fare un video sulle pietre evidentemente vuole entrare nel mercato europeo perché siamo le prime persone che sono andate a bussare in indonesia ma ho visto che avete delle pietre e quindi magari è tutto così però io non posso anzi aspettate un attimo fatemi cambiare io non posso raccontare le stronzate alla gente se mi sono guadagnato un minimo di credibilità è perché ho sempre detto le cose come stanno e non sono legato a nessun marchio a nessun brand a nessuna persona per cui se una cosa va bene lo dico se va male o lo dico oppure evito proprio di fare video di fare test per una questione di galanteria perché ti devo rovinare pubblicamente mi accorgo che hai tirato fuori un prodotto che non vale evito non lo faccio vedere non lo recensisco così credo di farti pure un favore però visto che questa persona ci teneva talmente tanto a quel minuto di visibilità io glielo ho detto in faccia per cui adesso sto facendo il video senza remore io ti faccio un video però occhio se viene bene viene bene cioè se fai una buona figura fai una buona figura ma se fai una brutta figura farei una brutta figura perché io dirò che la pietra va bene o dirò che la pietra va male questo che sia chiaro e questa prova la sto facendo in diretta anche se il video sarà registrato e poi lo caricherò su youtube quindi ritorniamo di nuovo al microscopio io mi sono voluto fermare subito perché ho sentito un forte rumore nell'utilizzo della pietra eccolo qua cioè non è possibile cioè non è possibile scusate se prima c'era un piccolo chip con la seconda pietra con il secondo passaggio il chip doveva ridursi di dimensioni guardate che cazzarola sta succedendo su sto rasoio oh vi ripeto rasoio con cui io mi ci sono sbarbato conosco perfettamente quindi questo filo ha cominciato cioè all'inizio della prova era un filo tritto steso non è che dici vabbè scusate allora lo fai apposta hai preso un rasoio che già stava messo male no no questo rasoio questo filo era perfetto sfilato davanti a voi con due tre passaggi sull'angolino della pietra ma qui qui è grave la cosa qui è molto grave quindi la pietra sicuramente è sporca ha delle inclusioni non è una matrice che ingloba solo degli abrasivi dal rumore ma ripeto solo dal rumore potrebbero sembrare addirittura granelli granelli di sabbia io ho avuto quella sensazione lì e per quello mi sono voluto fermare immediatamente quindi questa pietra non la vado neanche a rimettere nel nel contenitore nell'acqua dove stanno le altre due per me questa pietra ha finito di lavorare e difficilmente farò anche la prova sul sul coltello assolutamente una pietra sporca quindi pietra molto pericolosa veniamo alle ultime due ripeto che mi sono state spacciate tra virgolette una come 8000 e l'altra come 12000 queste sono pietre totalmente diverse aspettate poterci che con l'altra inquadratura riesco a farvela vedere meglio queste sono pietre totalmente diverse queste sembrano novaculite so che con la webcam è difficile farvelo vedere e capire però questa è una pietra molto molto densa molto molto più pesante stessa misura diciamo dell'arancione ragazzi non scherzo se vi dico che pesa il doppio quindi questa è proprio un'altra un'altra roccia questa è stata ricavata da un'altra questa è un'altra vena questo è proprio un altro materiale scusate io ogni tanto me la spippacchio ognuno ha i vizi suoi quindi qui andiamo proprio su un'altra un'altra tipologia di vena benché sono tutte pietre non so se l'ho detto prima che vengono dalla montagna di Bogor che credo di aver capito sia a sud di Jakarta più o meno nella parte centrale dell'Indonesia nella parte centrale dell'isola quindi sono ripeto oggi vi faccio vedere queste tre quattro pietre tre pietre e mezzo che vengono tutte quante da Bogor però sono due materiali diversi questa con l'arancione non c'entra assolutamente niente è un altro materiale quindi non lo so forse due pene che scorrono parallele non so che cosa dirvi ma state tranquilli che così per quel minimo di esperienza che uno ha guadagnato sul campo se non mi avessero detto che sono nuove pietre indonesiane che vengono dall'altra parte del mondo e me le avessero fatte provare io avrei detto scusate me l'hai capito una cosa io avrei detto tranquillamente con la prima pietra ciò che strana sardesia di questo colore arancione non l'avevo mai vista perché la sensazione è quella dell'ardesia quindi il peso specifico anche quello dell'ardesia il feedback molto felpato come le ardesie qui invece avrei detto oh una nuova pulite nera particolare però sta nuova pulite l'idea è quella adesso non so se effettivamente questa sia una nuova pulite o meno intanto guardate la differenza questa l'acqua la mantiene quindi qui c'è molto meno porosità nel materiale e visto che mi dava della mi sembrava una nuova pulite ho provato a trattarla da nuova pulite ho provato ad utilizzarla in prima battuta subito ad olio vi faccio vedere vi faccio vedere una una cosa se mi date un attimo perché le pietre indonesiane a olio io ho fatto delle foto dei giorni scorsi allora c'è una foto di insieme delle quattro delle quattro pietre utilizzate ad olio vi faccio vedere eccola qua questa è stata fatta nei giorni scorsi come vedete ad olio se guardate anche il soprattutto il filo ad olio migliorano molto ad olio migliorano però vedete che com'è strano la 3000 lì dove vedete in alta sinistra ha scritto 1000 ma in realtà è la 10.000 guardate la 3000 guardate soprattutto l'8000 in bassa destra vedete maledetto c'è sempre quel filo che in qualche punto si spezza questo è il difetto più grave gravissimo che io riscontro perché altrimenti utilizzate ad olio non erano malaccio però ripeto l'ultima cosa l'ultima prova che ancora non ho fatto è quella dell'utilizzo a fanghiglia e quindi oggi quello facciamo aspettate che devo trovare questo lato qua dovrebbe essere il lato 600 yes allora vedete è strana perché sembra una nuova culite ma una nuova culite avrebbe avuto bisogno ma di quanta strofinata per tirare fuori un po' di sospensione e invece qui guardate un attimo è voluto solamente un attimo per tirare fuori un po' di fanghiglia quindi dubbio amletico ma saranno nuova culite questa boh chissà che materiale strano deve essere al peso al tatto alla consistenza sembrano nuova culite poi basta una strofinatina di diamantata 600 pure bella consumata quella che uso sempre sulle pietre e immediatamente è partita la sospensione e questo non è un comportamento da nuova culite è chiaramente liscio il il feedback che la pietra è abbastanza liscia non vetrosa ma non è vetrosa neanche la nuova culite per esempio americana le classiche arkansas anche ben lappate anche ben dressate non sono vetrose per cui ci sta quel minimo di feedback sempre sul pelpatino io continuo andare sì disordinatamente con il cerchietto però è l'unica cosa che mi permette è l'unica di di velocizzare un po' l'affilatura allora visto che dopo la brutta esperienza dell'altra pietra poco mi fido interrompo immediatamente e faccio un primo controllo se la pietra non sta facendo danni continuo per cui vado a mettere il rasoio sotto il microscopio cambiamo immagine ha perso il fuoco ok a rieccolo ragazzi non mi piace non mi piace non mi piace cioè calcolate che noi quando siamo arrivati a un 8000 questo è il ragionamento secondo me da fare cambia un attimo in quadratura il ragionamento da fare è la prova comparata con le pietre che noi già conosciamo e che utilizziamo quasi quotidianamente qua in Europa noi fondamentalmente il rasoio lo affidiamo in due modi se vogliamo andare veloci facciamo tutta una sequenza su sintetica e poi ci concediamo una pietra di finitura alla fine magari di chi non gradisce la finitura troppo laser che può lasciare una 10.000 sintetica o altrimenti ci facciamo tutta la sequenza su pietre naturali ma arrivati a un 8000 siamo in finitura arrivati su un 8000 è inconcepibile trovare quei buchi sul filo o trovare un bevel ancora in questo stato è vero che ci sono stato poco quindi per correttezza adesso chiacchierando chiacchierando continuo ancora a dargli qualche spazzolata nella speranza che che possa migliorare vado sempre col cerchietto per cercare di velocizzare poi ecco calcolate che stiamo parlando di una pietra oltretutto usata a fanghiglia anche qui sento rumore ragazzi non so se voi lo sentite io lo sento il microfono purtroppo ho messo la riduzione del rumore perché qua tra ventilatori eccetera eccetera per cui sotto un certo numero di decibel taglia taglia l'audio quindi probabilmente voi non riuscite a sentirlo ma va sicuro che ancora il rasoio non va avanti silenzioso vi ripeto un 8000 deve essere silenziosa e un 8000 oltretutto a fanghiglia fate un paragone mentale ma se io sotto anziché avere questa pietra ci avesse avuto una belga che bene o male pure lì siamo con 8000 oltretutto usata a fanghiglia primo la belga a fanghiglia il fango si sarebbe caricato di rimatura in un attimo in una frazione di secondo e poi mano 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 andando per diluizioni avrei portato ma sentite che rumore è ignorante proprio andando mano 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 in diluizione provo adesso a diluire un pochettino si sarebbe arrivati alla finitura una belga partendo dal dall'utilizzo a fanghiglia diluizioni successive fino all'utilizzo a pietra pulita il rasoio è pronto per la faccia non c'è bisogno di altro adesso sto oltretutto guardi sto dando tutti i vantaggi di questo mondo a questa pietra anche una decina di passaggi a pietra passaggi rettilinei per dare un'ordinata a quei marchi di affilatura e andiamo a rivedere andiamo al microscopio scusate non tanto dovremmo allora cioè non se può cioè uno mette la lama sotto il microscopio la prima cosa che vede onestamente io non lo so come è stato stimato sto grit cioè purtroppo lo so purtroppo lo so e rabrivitisco solo all'idea ma se passi il grit di una pietra passandoci i polpastrelli e pensando beh questa è una semina poi il giorno dopo ti ribagni il polpastrello rivai sulla pietra ah no questa è un 8000 è chiaro che il polpastrello ognuno ha la pelle sua un giorno hai la mano che funziona un giorno ce l'hai ridata la sera prima è bevuto un giorno te sei aggrappato ad un albero te sei sgrattugiato come se passi ma il grit di una pietra a polpastrello ritorniamo al discorso non lo stimano infatti dico per loro la pietra è fine o è grossolana su coltelli di ferro dolce non mi stavo guardando intorno per vedere se c'era un coltello a portata le mani però purtroppo stanno là sopra è chiaro che su un coltello di ferro dolce di acciaio dolce è chiaro che la pietra brate è chiaro che la pietra lavora ripeto io ho cercato sto cercando di essere onesto ho tirato fuori un acciaio solingen quindi proprio l'acciaio medio dei nostri rasoi ma voi immaginate la persona che arriva e fa 3.000 6.000 no no 8.000 no non scherziamo comunque pure sta pietra anzi devo fare una cosa prima di toglierla voglio ritornare di nuovo sul microscopio per vederlo un po' anche in altri punti il il bevel ecco come te giri e te muovi qua niente guardate 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 che che sfilza infinita di chip scusate il mal di testa ma muoversi sotto il microscopio non è facile cioè come ti muovi escono chip sui figli guarda poi dice che sento rumore grazie al cavolo guarda mica finito questo sai che significa che è finito sto video sto rasoglio odori passaggio le pietre un'altra volta non questi ragazzi allora questa pure la leviamo e arriviamo all'ultima pietra e su questa pietra allora ve la faccio prima vedere molto 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 simile a quella nera quella blu che avete visto solo che è grigio chiaro che padre all'altro eppure bella densa bella lucida bella pietra esteticamente parlando però però qui c'è un altro appunto che io devo fare al venditore e mi dispiace parliolo in diretta ma amico mio hai voluto il video e adesso ti prendi la torta con tutta la ciliegina sopra tra me e te ci saranno 7000 km di differenza non lo so ci saranno 5 fusi orari stai proprio dall'altra parte del mondo quando io ordino io un io qualsiasi quando una persona ordina un certo tipo di pietra vuole quel certo tipo di pietra non è che mi abiti a 30 km allora ti faccio il pacchetto te lo rimando in giro di due giorni mi arriva allora a me è arrivata questa pietra che si è dimostrata la più fine di tutte le pietre che mi sono state mandate ma io in realtà avevo chiesto una 1000 e mi è arrivata una 10.000 io avevo chiesto la classica serie da coltello avevo chiesto una 1000 una 3000 e una 8000 già l'8000 era un'esagerazione perché dico con la 1000 e la 3000 faccio le prove sul coltello con la invece 3000 e 8000 faccio le prove sul rasoio ci aveva un senso solo che la pietra che mi è arrivata anziché essere la 1000 che poi ho scoperto l'errore è nato dal fatto che anche la 1000 è grigia ma è mandata la 10.000 anzi addirittura all'altra persona italiana che ha comprato le pietre gli ha detto 12.000 poi questa sensibilità nel polpastrello che riesce a capire la differenza di grit tra 10.000 e 12.000 quel polpastrello lo dovete fa santo benedetto subito lo dovete portare in processione perché uno che ha un polpastrello così sensibile da capire la differenza tra una 10.000 a 12.000 naturale essere molto molto in gamba molto bravo quindi l'errore non è errore da poco perché qui stiamo parlando di 150 euro di spese di spedizione che non è che dice ma io non ti avevo chiesto rimanda me la chiedo e ti rimando quell'altra ma alla fine ma mi vado a comprare una maruga mi vado a comprare quello che mi costa sto esagerando ovviamente però ci vuole accortezza nella vita ci vuole professionalità ma comunque è arrivata a 10.000 e quindi io nella scaletta che vi sto facendo vedere l'ho tenuta per ultima ripeto pietra gemella a quella appena utilizzata stesso stessa densità quindi stesso peso ecco qui c'è già una piccola differenza vedete aspetta mentre su quella scura sono bastate veramente due due spazzolate quella diamantata per creare sospensione e quindi il dubbio ma sarà una nova pulite questa invece si sta comportando come una vera nova pulite guardate quanto devo strofinare per tirare fuori un po' di sospensione vedete anzi forse non riuscite neanche a vederlo perché la sospensione grigia chiara su questo tipo di pietra ecco se la mando forse in alto riuscite e comunque guardate quanto tempo ci devo stare per tirare fuori una sospensione accettabile ok adesso la vedete no? l'ho fatta l'ho strisciata per cui adesso si vede quindi altro problema nel giudicare le pietre lo stesso fornitore mi manda tre esemplari tutte pietre della montagna di Bogor tre pietre di tre materiali diversi perché questa sicuramente non la posso paragonare la posso paragonare ripeto per peso per densità a a quella blu alla precedente ecco oh l'unica cosa positiva guardate qui questa lavora questa di tutte le tre pietre è l'unica che sta mangiando in tempi tutto sommato anche anche rapidi non tiene molto l'acqua altra cosa strana vedete se già si è già asciugata scusate la mano davanti ma anche per fare prima sto cercando di fare un po' di pressione comunque lo vedete la limatura questa perché io voglio dire le cose come stanno non voglio né calcare la mano in un verso né nell'altro questa è l'unica che mi sta dando un po' di soddisfazione qui sto vedendo la limatura che si è caricata un pochettino anche questo passaggio felpato nessuna tramatura nessuna vibrazione strana al passaggio del rasoio diciamo che utilizzandola a sospensione a fanghiglia la pietra non è velocissima insomma non è che stavamo a parlare della sintetica o della nakayama la santa e benedetta però in una velocità diciamo adeguata per una pietra da finitura allora come al solito faccio prima un controllo veloce sapete il proverbio quando uno si è bruciato col fuoco c'è paura pure di un cerino ma io non posso sminchiare il rasoio perché poi anche perché questo è pure uno degli ultimi compreso ok aspettate un attimo scusatemi allora poi ce ne andiamo a spasso per vedere il filo che comunque rimane sfrangiatissimo perché basta che guardate qui esattamente proprio aspetta esattamente sotto il mio dito cioè una 12.000 siamo 6 però devo dire che come marchi d'affilatura qui la finezza c'è se devo giudicare la pietra dai marchi i marchi d'affilatura si vedono e sono sono sottili insomma voglio dire qui la pietra non so che gritt è perché chiaramente non mi fido del polpastrello non sapremo mai qual è il vero gritt di sta pietra ma sicuramente è una pietra fine adesso parto diciamo da avanti da verso sto verso la punta scusate lo so è difficile tenere fermo il rasoio per farlo scorrere qualche buchetto ancora si vede però quanto meno viva Dio si stanno si stanno riducendo vedete il solito chip lì stavolta devo dire mi sembra ridotto in profondità tutto sommato ecco ci sono ancora quelli grossi c'erano prima e continuano a esserci il famoso triplo chip che abbiamo visto pure prima però 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 mi sembra leggermente meno accentuato allora facciamo una cosa sto controllando il rasoio diciamo che questo triplo chip che si riconosce bene è più o meno al centro della lama allora continuo a lavorare un pochettino sulla sulla pietra cercando di lavorare un po' di più centro rasoio per vedere come se e come riesce a a togliere o quantomeno ad addolcire un po' vedo sempre voi non riuscirete sicuramente a vederlo con già con la webcam di bassa qualità perché ho sempre detto le webcam quelle buone costano quindi la webcam che inquadra le pietre non è il massimo della qualità però fidatevi per quanto sono stato severo nel giudizio con le altre due pietre questa diciamo è l'unica pietra che sembra che stia lavorando non non sta tirando fuori l'anima nera sento ancora rumoretti non sta tirando fuori stavo dicendo l'anima nera però calcolando che è una pietra fine ci sta che il livello di abrasione la velocità scusate di abrasione non sia eccelsa ci sta diciamo tutto sommato è giusto se cascano le braccia quando cammi in quadratura e vai a beccare subito il chip ti incazzi eccolo là che vi devo dire ragazzi sembra sembra che qualche cosa stava facendo certo non è lavoro di pietra da finitura togliere i chip da un filo la cosa veramente grave è che questo rasoio guardate se riesco a inquadrarvele tutte e tre cioè guardate in una porzione di lama un chip esattamente sotto il mio faccione uno al centro dell'immagine e i famosi tre chip uno vicino all'altro tutto a sinistra il problema vero è che questo rasoio all'inizio di questo test non ce l'aveva quindi sono chip che sono stati provocati dalle pietre usate in precedenza per onestà posso pensare che se a quest'ultima pietra se a quest'ultima pietra fosse stato dato in pasto un buon filo probabilmente avrebbe lavorato meglio essendogli arrivato sul gruppone un rasoio distrutto dalle pietre precedenti ci sta che più di tanto non possa fare a questo punto voglio tirare le conclusioni anche perché più di un'ora questo video è lungo allora conclusioni ho provato tre pietre indonesiane probabilmente ci rivedremo ancora con le pietre indonesiane perché vi ripeto in viaggio ce ne sono altre due una che dovrebbe essere molto più grossolana e una che dovrebbe essere ancora più fine di quest'ultima appena provata la conclusione su quattro pietre testate oggi io salvo questa tutto sommato è una pietra economica in partenza ragazzi in partenza perché poi finita qui in Italia tra spese di trasporto e tutto non lo so quanto convenga ognuno si facesse i conti propri io ve lo dico subito non le ricomprerò più comunque questa è una pietra benvenuta in casa ancora ci giocherò un pochettino cercherò di trovare una sistemazione in un'ipotetica scaletta non vi ho detto una cosa aspettate dopo che dopo che ho usato le pietre ad olio queste pietre ad olio io me la sono fatta la barba tutto sommato sembravano buoni fili ho stato una vita una mattinata intera per arrivare a quei risultati poi sono andato in rasatura perché il test principe è quello non è stata una grande sbarbata quindi la conclusione pietre di bogor sicuramente sono pietre da coltello sicuramente sono da coltello e su acciai dolci non ci siamo con lo standard europeo noi abbiamo degli standard molto più alti abbiamo degli acciai molto più performanti e tempre molto più dure è chiaro che oggi ho provato sul rasoio ma la pietra non nasce per lavorare sul rasoio la pietra lasce per lavorare sul coltello ma visto quello che fa sul filo io i miei coltelli giapponesi in augami non ce li metto sopra mi dispiace vedremo adesso quelle due pietre nuove che arriveranno se mi faranno cambiare idea per carità sempre pronto a cambiare idea sempre pronto però allora uno valore assoluto il test non mi è piaciuto sulle pietre due sono pietre molto economiche in partenza ma poi quando arrivano in Italia visti i costi di spedizione al chilo e tra l'altro sono pietre molto dense quindi anche molto pesanti tutto il discorso dell'economicità si va a fare benedire per cui alla fine una di queste pietre viene a costare leggermente di meno che una normalissima pietra europea voglio dire e poi cioè scordiamo che tra i pietri europei ci stanno quelle costosissime tipo le belghe ma c'è la bellissima ardesia ligure che con 40 euro te ne compri uno straccio grosso così quindi pure lì bisogna vedere con che pietre europee uno lo va le va a paragonare tre quello che trovo meno piacevole di tutta la storia è il lavoro di una ditta molto approssimativo non si possono spianare le pietre strofinando pezzettino la butta pezzettino per pezzettino si usano piani di riscontro si usano pietre piastre diamantate piastre di rettifica perché soprattutto con pietre dure tipo le nanopulite tu non puoi mettere in condizioni l'utente chi compra di farsi scusate con rispetto parlando un culo così per spianarle veramente noi siamo abituati a disegnare una griglia a metterle su un piano perfetto a usare polveri a usare di carburo di silicio a usare carta smeriglio a usare mille metodi ma prima di utilizzarle quelle pietre devono essere sicuramente in piano e la ditta questo non non te la assicuro quarto io non posso ordinare una cosa dall'altra parte del mondo e me ne arriva un'altra che non ho ordinato perché le distanze e i costi di spedizione sono altissimi per cui quando una pietra indonesiana viene venduta in Indonesia vabbè se c'è l'errore con molta semplicità si può rimediare ma quando una pietra deve essere spedita via aereo con costi vi ripeto alti c'è poi da pagare una dogana quando arriva qui in Italia comunque quando entra in Europa oltre alla dogana c'è da metterci il 22% di va sopra cioè voi capite che queste pietre non possono fare la tarantella andare avanti e indietro quindi quando si va a vendere si vuole diventare un come si dice un venditore anche per l'estero quando si vuole fare commercio con l'estero quello che noi chiamiamo controllo di qualità deve essere accuratissimo perché ripeto un piccolo errore lì poi diventa un grosso problema qui qui ci sto giocando da settimana e settimana ma fino a che non mi arriva la famosa pietra mille io non posso fare per bene i miei test perché sono pietre da coltello ok le voglio usare sul coltello le voglio usare per quello che sono nate le voglio trattare al meglio possibile ma su un coltello non posso partire dalla tremila per un coltello tremila è la finitura è la lucidatura finale io su un coltello devo partire da mille se non addirittura da più sotto se il coltello presenta delle cippature delle sbeccature e sapete benissimo che sui coltelli da cucina che spesso vengono utilizzati a colpo la cippatura c'è quindi io concludo qui anche per non farla più lunga di quanto già è diventata non voglio dare ancora un giudizio definitivo perché mancano due pietre all'appello e vi ripeto tra l'altro mi manca la più grossolana e la più fine della produzione quindi può darsi che con quelle due pietre il giudizio può cambiare in questo momento sinceramente non è un buon giudizio è la prima volta e mi sento molto in imbarazzo a farlo è la prima volta che faccio un video per non parlare bene fondamentalmente di una cosa io di solito faccio il video su quello che mi colpisce oh ragazzi vai a ricordare ho trovato ho trovato sta auto famosa per gli affilatori di spade oh l'ho provata pure sui nostri rasoi tanta roba se vi va dategli un'occhiata cioè il video così lo capisco oh ragazzi narutaki narutaki ottima sui coltelli però lo sapete che pure sui rasoi come prefinitura ma anche come finitura palla grande vi ricordate quando abbiamo sdoganato al mondo l'utilizzo della binsui per la bisellatura dei rasoi ci hanno preso per matti adesso tutti quelli che conosco bisellano sulla binsui o sulla macusa bianca che insomma siamo sempre là sono sempre cugini eternali fare un video così per passatemi il termine sdoganare una pietra un metodo di affilatura che mi è particolarmente piaciuto vi ricordate quello del della doppia bisellatura che non è farina nel sacco mio ma farina nel sacco di Bob Santini l'ho ripreso volentieri perché è un metodo che mi è piaciuto tanto non doppio bevel è doppia bisellatura bisello levo il nastro e ribisello di nuovo quindi ho sempre fatto vedere cose che mi hanno colpito in positivo è la prima volta che chiudo un video non consigliando un prodotto io gliel'avevo detto all'amico non insistere io il video non te lo voglio fare ma non perché sono un cattivo perché lo faccio per te no no io spero di vedere il mio video sul tuo youtube ragazzi siamo tutti maggiorenni vaccinati l'hai voluto il video ecco il risultato sperimentato documentato immagini microscopio aspetto le altre due pietre nella speranza che siano talmente buone che mi facciano cambiare l'idea in questo momento l'idea non è il giudizio non è dei migli basta un'ora e undici minuti ragazzi lo so che pure sto video che darà un petto non lo vedrete tutto lo vedrete a mozze che boccone però purtroppo da dire ce n'era tante non penso che fino adesso avete visto tante pietre indonesiane cioè rasoi su pietre indonesiane per cui grazie a tutti anzi grazie a quei pochi che sono arrivati fino qui e quando arriveranno le pietre a breve ci rivediamo e conto per giustizia ed equità di fare una seconda parte di questo video aggiungendo i nuovi arrivi detto questo salutone ciao popolo alla prossima grazie a tutti